Bentornati, siamo al capitolo 18, alla diciassettesima storia e qui conta della vendetta che fece Dio d'uno barone di Carlo Magno. Siamo all'epoca del grande imperatore Carlo Magno, vissuto tra l'ottavo e il nono secolo dopo Cristo, colui che riuscì a conquistare e a fondare il sacro romano impero, morto nell'814, quindi il periodo storico in cui si svolge la storia è proprio questo, re dei franchi, poi re dei Longobardi, conquistò appunto i Longobardi in Italia nel 774 d.C., imperatore dei Romani, incoronato da Papa Leone III la notte di Natale a Roma in Vaticano. Quando leggete notate l'assenza di riferimenti storici, non viene detto nulla, è tutto dipinto per sommi capi, come brevi pennellate, non ci viene detto niente, manca quella struttura, quella complessità, quell'approfondimento tipici del Decameron di Boccaccio. Questi sono tutti abozzi, degli schizzi, dei brevi quadretti, ma nulla hanno a che fare con la profondità, la maestria, la grandezza di Giovanni Boccaccio. Carlo Magno, essendo ad oste sopra i Saracini, quindi essendo in combattimento, in guerra contro i Saraceni, quindi contro i musulmani, venne a morte, quindi arrivò in punto di morte, stava per morire, siamo appunto nell'814. Fece testamento e in tra le altre cose giudicò suo cavallo e sue armi a poveri, quindi stabilì e assegnò i suoi cavalli e le sue armi ai poveri e lasciò un suo barone che le vendesse ed esseli a poveri, quindi incarica un suo barone, quindi un suo vassallo, di occuparsi della faccenda. Fa testamento, lascia tutti i suoi beni, qui Carlo Magno rappresenta il buon cristiano, lui è un exemplum per tutti i bravi cristiani prima di morire, è bene lasciare tutti i propri averi a chi ne ha bisogno. Quelli si tenne e non ubi Dio, ma il barone che cosa fa? Tenne tutto per se stesso non esegui le ultime volontà testamentari del morto, quindi di Carlo Magno, quindi notiamo anche la differenza tra l'eroe della storia e l'eroe nero, questo è un exemplum rovesciato ed è interessante perché questo comportamento viene evidenziato, viene esacerbato e comunque sottolineato ancora di più proprio perché si trova subito dopo la storia di Piero Tavoliere che aveva venduto addirittura se stesso pur di dare ricavato ai poveri e dopo la storia di San Paolino Vescovo che abbiamo già visto, il quale andò in carcere al posto di un'altra persona, quindi addirittura si privò della sua stessa libertà. Dopo due esempi così importanti di nobiltà, di grandezza d'animo, adesso abbiamo un exemplum rovesciato in negativo. Carlo tornò a lui e disse, interessante è questa cosa, i morti ritornano per tormentare i vivi, questa è un'altra credenza, un'altra superstizione tipica del Medioevo, otto generazioni di pene mai fatte sofferire in purgatorio per Dio, per lo cavallo e l'armi che ricevesti, quindi a causa tua Dio mi ha condannato a otto tipi diversi di pene, quindi di sofferenze in purgatorio, quindi ho dovuto soffrire tantissimo proprio perché non hai eseguito le mie ultime volontà, ma grazie del Signore mio, ma grazie quindi alla bontà e alla giustizia del mio Signore, io me ne vò purgato in cielo, quindi ora posso tranquillamente andare in paradiso e tu la comperai amaramente e tu invece la pagherai molto cara. Il morto viene ad annunciare gravi sciagure, gravi sventure all'anima della persona che è ancora viva perché ha osato venire meno alle sue ultime volontà e soprattutto non ha seguito i precetti evangelici di aiutare i poveri, gli umili, perché aiutando loro in realtà è come se noi facessimo del bene al nostro Creatore che, quindi poiché, udenti centomili agenti, quindi tutti sentirono questo numero enorme, sta ad indicare che una grande folla se ne accorse, venne un truono da cielo, notiamo anche il raddoppiamento fonico di queste parole che evidenziano l'uso del dialetto e andonne con lui in abisso. Dio scaglia un fulmine dal cielo e quest'ultimo si porta dietro anche il povero barone che scende nell'abisso mentre ancora in vita, quindi da vivo in carne ed ossa, non dopo la morte. Ed è interessante perché questa immagine, se siete attenti, la ritroverete anche nella Divina Commedia quando nel Regno dei Fraudolenti Dante menziona Anfiarao, quando arriveremo a trattare degli indovini in mezzo loro c'è anche lui, Anfiarao, indovino di Argo, colui che aveva predetto e previsto la sconfitta e quindi il fallimento della spedizione dei sette contro la città di Tebe, quindi siamo all'epoca dello scontro mitologico, insomma leggendario tra Eteocle e Polinice, per impedire a questo indovino di cadere vittima dei suoi nemici, Zeus in persona scagliò un fulmine che fece precipitare Anfiarao direttamente nelle viscere della terra mentre era ancora in vita, quindi l'immagine è la stessa. Probabilmente questo anonimo fiorentino aveva in mente questa immagine, ne aveva sentito parlare oppure ne aveva letto o raccolto la storia da qualcun altro che a sua volta poi la conosceva. Pertanto questa immagine è un'immagine topica, ritorna ancora, non è una novità assolutamente del novellino. Anche in questo caso siamo di nuovo in un ambiente di corte, il protagonista è un sovrano, quindi continuamente si passa da un ceto sociale all'altro. Piero Tavoliere era un mercante, Paolino Vescovo era un membro del clero, ora siamo tornati all'interno del mondo dell'alta aristocrazia, qui addirittura si parla del fondatore del Sacro Romano Impero. Quindi è interessante perché questo libro è una raccolta di storie che però contiene in sé anche un vero e proprio catalogo di personaggi appartenenti a tutte le classi sociali e quindi nel suo piccolo rappresenta un microcosmo, tutta la realtà dell'epoca, di un mondo che ormai è morto e sepolto per sempre, che non tornerà più, ma che ancora oggi ci parla perché la natura umana è sempre la stessa. Cambiano le modalità, cambiano i tempi, i problemi sono diversi, ovviamente il nostro stile di vita è completamente cambiato, ma i problemi, le angosce, le speranze e i nostri timori e le nostre superstizioni sono sempre le stesse e quindi questi grandi del passato ci insegnano continuamente qualcosa. Arrivederci alla prossima lezione.